Henry Kissinger, nato a Insalfred Kissinger, è stato un politico e diplomatico statunitense di origini ebraico-tedesche. Membro del Partito Repubblicano. Fu consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di Stato degli Stati Uniti durante le presidenze di Richard Nixon e di Gerald Ford tra il 1969 e il 1977. Nel 1973 fu insignito del Premio Nobel per la pace. Ecco una panoramica della sua vita e carriera. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Kissinger nacque a Furt, in Germania, nel 1923. Durante la Seconda Guerra Mondiale, servì negli United States Army come sergente nella 84-17 Infantry Division e nel 900-70-17 Counter Intelligence Corps Detachment. Carriera accademica, dopo la guerra, studiò alla Harvard University, ottenendo un B.A., un M.A. e un PHD in scienze politiche. Iniziò la sua carriera accademica come docente universitario. Carriera politica, nell'amministrazione Nixon, fu consigliere per la sicurezza nazionale dal 1969 al 1975. Contribui alla politica estera degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. Vietnamizzazione, sostenne la politica di Vietnamizzazione, cercando di ridurre l'impegno militare degli Stati Uniti nel Vietnam. Politica della distensione, promosse la politica della distensione con l'Unione Sovietica e la Cina. Fine della Guerra del Vietnam, contribuì agli sforzi per porre fine alla Guerra del Vietnam. Coinvolgimento nel golpe cileno. Fu coinvolto nel golpe cileno del 1975. Guerra del Kippur. Gestì la crisi durante la Guerra del Kippur tra Israele e gli Stati Arabi. Nell'amministrazione Ford, continuò a servire come segretario di Stato sotto la presidenza di Gerald Ford ritiro dalla politica. Dopo aver lasciato l'incarico di segretario di Stato, si ritirò dalla politica attiva vita privata. K. Isinger ebbe una vita personale riservata e mantenne la sua privacy. Opere faccina imbarazzata crisse diverse opere, tra cui una dissertazione accademica e Memorie e onorificenze. Ricevette numerosi riconoscimenti e onorificenze sia statunitensi che straniere. Henry Kissinger è stato un personaggio controverso, ammirato per i successi diplomatici ma anche criticato per i metodi spregiudicati che ha utilizzato durante la sua carriera politica. La sua influenza sulla politica estera degli Stati Uniti rimane un argomento di dibattito e studio 2-3-4-5. Henry Kissinger ha scritto diverse opere di grande rilevanza nel campo della politica internazionale e delle relazioni internazionali. Ecco alcune delle sue opere più importanti, Diplomacy 1994, questo libro è considerato uno dei suoi lavori più influenti. In I Diplomacy, Kissinger esplora la storia della diplomazia e analizza le strategie e le sfide che i leader devono affrontare nel mondo complesso delle relazioni internazionali. Award Restored, Metternich, Castle Rig and the Problems of Peace, 1812-1822-1957, in questo libro, Kissinger esamina il periodo post-napoleonico e le figure chiave come Metternich e Castle Rig. Analizza come questi leader abbiano cercato di stabilire un ordine europeo dopo le guerre napoleoniche. Years of Apeava L 1982, questo è il secondo volume delle sue memorie. Copre il periodo dal 1968 al 1976 e offre una visione dettagliata, della politica estera degli Stati Uniti durante gli anni turbolenti della guerra del Vietnam e della crisi. Energetica White House Years 11-979, il primo volume delle sue memorie, White House Years, copre il periodo in cui Kissinger è stato consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di Stato sotto le amministrazioni Nixon e Ford. Offre una prospettiva interna sulla politica estera degli Stati Uniti durante quel periodo d'O.S. Americanidà, Foreign Policy. 2001 in questo libro, Kissinger esplora la necessità e il ruolo della politica estera degli Stati Uniti nel mondo contemporaneo. Offre una riflessione sulle sfide e le opportunità che gli Stati Uniti devono affrontare nel contesto globale. Queste opere riflettono la profonda conoscenza di Kissinger delle relazioni internazionali e la sua influenza nel campo della politica estera. Ognuna di queste offre una prospettiva unica e preziosa su eventi storici e questioni globali.